Ciao a tutti, siamo qua al Palla Gators, diciottesima vittoria per i Gators contro Rivalta partita emozionante dopo un bel primo quarto, hai due protagonisti, Dani allora dopo il primo quarto 21 a 6 abbiamo un po' mollato, Rivalta è sempre stata lì 7-8 punti, 6 punti, arrivati a 5 ma poi l'abbiamo portata a casa l'abbiamo portata a casa, abbiamo giocato un primo quarto spettacolare sembravamo una vera squadra di basket e poi secondo, terzo, quarto, quarto ci siamo un po' dimenticati di essere una squadra, partita brutta ma chi se ne frega siamo primi da soli perché Sagrantino ha battuto di uno grugliasco e questo ci onora essere primi si misse, invece il tuo esordio stagionale è andata bene con la vittoria era in bettola classifica, adesso com'è? diciamo che nell'Olimpo dei primi si sta bene, dopo sei mesi di stop finalmente sono riuscito a tornare non c'era il ritorno migliore, una bella vittoria, vinta in difesa come piace a me sputtando bene sangue, il coach è contento, Eva Bimparei ok Dani, ultima domanda, prossima partita a Beinasco, campo difficilissimo e poi Beinasco, squadra di tiratori micidiali, no? due cose prima di tutto AC14 ti aspettiamo secondo, vorrei ringraziare GF che ci ha detto che ci offrirà la pizza alla prossima vittoria quindi grazie GF, ti vogliamo bene dopo questo appello allo sposto che ringraziamo come sempre un saluto a tutti, ci vediamo AC14 ti aspettiamo ciao a tutti ciao a tutti